bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video per l'estrazione esatto ragazzi ne ve l'avevamo promesso questa mattina 21.300 iscritti entro stasera alla grande siamo già più di 22.000 vi diamo la possibilità di vincere un bel buono da 10 euro che possono spendere dove volete voi che posso andare al mcdonald e comprare come ricarica di telefono per comprarvi quello che volete in fornite poi per andare a mangiare il panino non è per andare a mangiare il panino portafoglio ps4 portafoglio xbox one pay safe card o ricarica telefonica dovete solo commentare sotto questo video un commento solo mi raccomando con questo hashtag ragazzi la meteora ha fatto un buco così cosa ne dici la meteora ha fatto un buco così mi raccomando la meteora ha fatto un buco così noi estraeremo questa sera verso le 10 e 30 nel video non in chat perché ogni tanto partecipo ciao ragazzi commentate qua ciao dieci e mezza l'estrazione dieci e mezza non mancate